La Commissione ha preso atto che, secondo quanto affermato in audizione, le parole utilizzate nel suo intervento in Aula, seppure con toni che appaiono politicamente aspri, intendevano essere testimonianza di una preoccupazione riguardo ad eventuali effetti indiretti su un affievolimento dell'Istituto di cui è l'articolo 41b nei confronti del cospito e pertanto non lesive dell'onorabilità dei deputati serracchiani, Lai e Orlando. Così la relazione della Gran Giurì della Camera dei Deputati ha respinto le accuse nei confronti del parlamentare fiorentino di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli in merito alle sue dichiarazioni sulla visita in carcere che alcuni suoi colleghi del PD fecero all'anarchico Alfredo Cospito, al centro di una strenua battaglia per la revisione della 41bis, il carcere duro. Il giurì d'onore della Camera ha esaminato però le sole affermazioni di Donzelli in Aula non la fonte delle notizie che il deputato ha dato, di quello si occupano altre autorità.